Una bocciatura totale è quella che arriva dal vertice governo sindacati sul piano industriale presentato una settimana fa da Arcelon Mittal. Mentre stamani, anche a Salerno, come in tutti gli stabilimenti, i lavoratori hanno attuato uno sciopero, a Roma in concomitanza si svolgeva l'incontro fra CGL Cisleville e i ministri dello sviluppo economico Patuanelli, dell'economia Gualtieri e del lavoro Catalfo, dove si è registrata una grande assenza, proprio quella del gruppo Arcelon Mittal. Il presidio di stamani a Salerno, dinanzi ai cancelli dello stabilimento della zona industriale, è stato accompagnato dai forti timori dei lavoratori, oggi in cassa integrazione, dopo la diffusione di voci che annuncerebbero 3.300 esuberi. La proposta del piano, presentata ad Arcelon Mittal, è inaccettabile per due ragioni. Mette in discussione i livelli occupazionali e il piano di investimenti, allungandone a dismisura il tempo. Di sicuro il Covid ha inciso sull'economia globale, ma l'accordo del 4 marzo era sostanzialmente diverso. È assurdo quello che sta accadendo, ci ritroviamo all'ennesimo cambio di piano industriale. In meno di due anni siamo partiti dal accordo di settembre del 2018 che prevedeva zero esuberi e la riassunzione di tutti i lavoratori che erano in amministrazione straordinaria alla fine del percorso. Successivamente, già l'anno dopo sono stati dichiarati 5.000 esuberi nel 2019 e oggi ci ritroviamo per la terza volta a sentire di nuovo di parlare di piano industriale che tratta tutto fuori che lo sviluppo degli stabilimenti e della produzione. C'è stato alcun rilancio, ci siamo fermati il 24 marzo a causa del Covid facendo tutte 5 le settimane di cassa integrazione. Ne sono state richieste altre per Covid in scadenza a giugno e già sono state richieste altre 13 di cigo alla scadenza successiva, quindi non c'è proprio prospettiva di ripresa e volontà di ripresa soprattutto. Noi siamo all'oscuro di ciò che è stato già detto al governo, però è trapelato che ci saranno 3.000 esuberi in tutto il gruppo e quindi c'è attenzione da parte dei lavoratori perché non si sa in che modo sono distribuiti e non si vede proprio una via di uscita in termini di crescita.